Mi piacerebbe molto abitare ad Arezzo, sì, ho già abitato parecchi anni con Adam e ci torno molto volentieri. Il sogno della signora Margherita è quello di tornare ad Arezzo e trascorrere gli ultimi suoi anni accanto ai suoi amici e lasciare così la cata di riposo in Francia dove attualmente si trova un sogno che però rischia di non potersi realizzare. È quel principio di dignità che anche la Costituzione richiama, cioè è una persona che non ha figli ma questo non vuol dire che non avrà affetti. Margherita Moggi ha 94 anni, la sua è stata una vita nomade, originaria di Genova, ha lavorato per le Nazioni Unite e vissuto in molti paesi. Una vita di viaggiatori per il mondo dove però in ogni posto hanno comunque creato dei legami. Ad Arezzo ha vissuto negli anni 2000 assieme al marito inglese, poi si è trasferita in Francia. Qualche anno fa è rimasta vedova. In seguito ad alcuni problemi di salute è stato nominato un amministratore di sostegno e sono stati congelati beni. Attualmente si trova in una struttura per anziani ma da alcuni amici. Ad Arezzo li hanno già trovato una sistemazione. Tornare ad Arezzo non vuol dire andare a vivere da sola. Gli amici hanno trovato quindi una casa, una persona che può stare con lei notte giorno. Ha un mondo affettivo a cui vorrebbe quindi tornare. Da quando poi è riuscita a rimessere contatto con gli amici è molto più serena. Prima si sentiva in realtà abbandonata in un pezzo di mondo. Una situazione che non riesce però a sbloccarsi, illegale ha così scritto, ha consolato ed ambasciata e proprio nelle ultime ore è stata ricontattata. L'auspicio adesso è che possa aprirsi uno spiraglio. Sarebbe una cosa meravigliosa.